Ti piacerebbe imparare a fare bonifici gratuiti istantanei? E allora seguimi. Iniziamo aprendo l'app della mia nuova banca BBVA, una grandissima banca spagnola. Entrerò con i dati biometrici per fare prima. E questo è il mio conto corrente. Dopodiché cliccherò in alto a destra. Effettua un'operazione. Cliccherò su bonifici giroconti. Questo è il mio conto. E andremo a cliccare sul nuovo beneficiario. Inserirò il mio IBAN, Banca Fineco. Metteremo il nome dell'intestatario del conto, che sono io. Continua. Qui mettiamo il prezzo, il capitale che vogliamo spostare, miseri 10 euro. E qui finalmente potremo scegliere se fare un bonifico normale, un bonifico istantaneo, anch'esso gratuito, un bonifico programmato o ricorrente. Da notare che quello istantaneo è gratuito ma ha un limite di 1000 euro. Quindi se vorrete spostare 2000 euro dovrete fare due bonifici istantanei nella stessa giornata. Cosa che si può fare senza problemi. Questo è tutto. Ciao ragazzi e alla prossima.